Siamo con Nadir Pellegrini, fondatore e presidente dell'Associazione Barche di Legno, un'associazione amatoriale che vuole recuperare e rilanciare la tradizione delle lucie, le barche con gli archi, sul lago di Lecco e anche sui laghetti minori di Oggiono, di Annone Brianza, di Bosisio Parini, i laghetti Brianzoli. Perché questa volontà, questo progetto di rilancio? Bene, innanzitutto buongiorno a tutti. Allora, la nostra è nata da una necessità, possiamo dire, dal fatto che qualche anno fa a Lecco è morto Adriano Galli, che era l'ultimo maestro d'Ascia del nostro territorio lecchese e quindi i proprietari di barcazioni di legno che si appoggiavano a lui per le manutenzioni, quindi come sappiamo tutti la barca di legno non è una barca facile da tenere, è una barca che necessita di manutenzioni continue, deve sempre stare in acqua, ha bisogno di essere comunque controllata, non è facile e è anche abbastanza onoroso. Quindi negli ultimi anni, con la scomparsa dell'Adriano, diciamo... Che diciamo aveva il cantiere presso il Ponte Nuovo, al vecchio Lazzaretto di Lecco, quindi all'ingresso della città, sulle sponde del fiume, appena tornato tale dopo aver formato il Lario, allora dicevamo Galli? Molti si trovavano in difficoltà e hanno cominciato a chiedere a noi, che eravamo dei ragazzi proprietari comunque di una barca in legno, e quindi già un po' appassionati ci occupavamo della nostra manutenzione, di aiutarli nella loro. Uno, due, tre e poi le cose sono diventate che abbiamo conosciuto un signore di Lecco, si chiama Alessandro Scaltrini, che ci ha dato l'idea comunque di formare questa associazione, nel senso di creare un'associazione che si potesse occupare del recupero di queste imbarcazioni, creando le condizioni per la salvaguardia di questo patrimonio, che secondo noi è un vero patrimonio della nostra storia. E voi avete già fatto un intervento pubblico che ha avuto risalto nel mondo dell'informazione, perché in occasione della regata dei battei, la tradizionale regata della contrade di Pescarenico, avete donato, avete fatto donare una lucia anni 60 da una famiglia di Mandello. Certamente, allora riportiamo una lucia a Pescarenico, è il nome del progetto che abbiamo dato per il 2014, nato anche questo da un'esigenza, da un'esigenza che a Pescarenico, il luogo simbolo manzoniano, era da anni che ormai non c'era più la presenza fisica di una barca, di una lucia che la rappresentava nella sua... e quindi siamo venuti contattati da varie associazioni, dalle guide manzoniane, anziché dai licei per gite che facevano, e quindi scolaresche che venivano, e quindi non avvenero la possibilità di illustrare, far vedere la barca. Ci chiedevano di poterla portare, almeno quel giorno lì, sapendo che noi ne eravamo in possesso, per farla vedere, e quindi abbiamo pensato di fare questo progetto, che era proprio riportare una lucia per sempre a Pescarenico, perché doveva esserci, la lucia non può mancare per come la vediamo noi da Pescarenico. Quindi ci siamo prodigati nel cercarla. Dopo qualche mese abbiamo trovato una barca sul lago di Varese, e abbiamo contattato questo signore, che è comunque molto gentile, si è dato disponibile a darla a noi, anche se le nostre disponibilità economiche non c'erano in quel momento, ma il progetto l'ha appassionato, questo signore si chiama Bianchi Giuseppe, di nome Peppo, le saluto se vedrà l'intervista e lo ringrazio ancora. Dopodiché abbiamo iniziato il restauro di questa barca per portarla a Pescarenico. Nata la richiesta di partecipare all'organizzazione della giornata, della sagra che prima diceva, siamo stati contattati durante una manifestazione delle gare, delle lucie che si svolgono sul nostro lario, il trofeo mondonico, di cui l'associazione Amici, del gruppo manzoniano Amici delle Lucie, fanno le gare, e noi abbiamo partecipato a titolo di promozione sociale con la nostra Lucia per dare lo start o l'arrivo, insomma partecipiamo anche se non in forma competitiva agli eventi. Siamo stati contattati da una signora di Mandello che ci ha detto che aveva una Lucia del marito, morto da qualche anno, e avrebbe voluto trovare la maniera di renderla, di rifarla vivere questa barca che ha rappresentato molto per il marito. Quindi, leggendo e avendo alcune informazioni su di noi, ci ha contattato. Siamo stati felicissimi di trovare una cosa del genere, una barca, direi, bellissima, degli anni Sessanta, con l'albero della vela addirittura, per poter muoversi con la breva e il tivano, come si faceva una volta. La barca l'abbiamo portata a casa, è capitato la settimana prima, quindi in una settimana ci siamo prodigati per riuscire a fare il varo durante la manifestazione e ce l'abbiamo fatta. E cioè è avvenuto al termine della regata dei partei, sulla sponda di Piazza Era, il cuore del villaggio manzoniano di Pescarenico, il cuore del villaggio dei pescatori. Diciamo qualche caratteristica di queste lucie, le barche con gli archi. Perché gli archi? Gli archi sono nati dal fatto che i pescatori stavano fuori la notte a dormire, e per cui avevano la necessità di potersi riparare, e quindi questa forma era perché la pesca prevedeva lo stazionamento sul lungo all'ario anche sulle barche e dormivano a turni sulle barche. Quindi erano copertoni, tendoni di riparo? Tendoni di riparo, che poi sono diventati una caratteristica delle barche lariane. Risa famosa anche dalla pagina famosissima della Dio Monti sulle acque dell'Adda Pescarenico. Coloro che vedono questa intervista e sono interessati a contattare l'associazione barche di legno, le lucie manzoniane, le barche, dove possono rivolgersi? Allora, l'associazione ha una pagina Facebook, come modernamente si usa, e si chiama Abil Lecco, proprio Abil, associazione, barche in legno, lecco. E lì potete trovare tutte le informazioni necessarie. Altrimenti abbiamo una mail, anche questa molto semplice da ricordare, barcheinlegno, chiocciolagmail.com Bene, auguri quindi alle barche in legno, con la speranza che... Vorrei spendere ancora due parole su alcuni progetti che comunque ci stanno a cuore, sempre per il recupero delle imbarcazioni lariane, che sono le lance lariane, che sono quelle imbarcazioni che non hanno la cintina, ma sono comunque tipiche lariane dei pescatori, che vanno dalle inglesine alle lance, al canot, al quatras, e sono tutte le tipologie di barche che vengono utilizzate sull'ario. A questo proposito, uno dei nostri progetti per recuperare le lance si chiama Una barca per quartiere, quindi per sensibilizzare i cittadini di Lecco a sostenerci in questo recupero, che non è facile e oneroso soprattutto, vorremmo la partecipazione dei rioni nel recupero delle barche, quindi ogni rione si possa far carico, insieme all'associazione, di mantenere una barca, e quindi avere una piccola flotta di barche che avrà un futuro a Lecco, portando il nome che era storico di ogni rione, e quindi in questo caso noi, essendo di Germanedo come soci fondatori, e quindi Gratassas di Germanedo, la barca dei Gratassas di Germanedo, che è la prima delle 11 barche che formeranno questa flotta del nostro progetto, è già nel nostro cantiere, quindi speriamo di trovare gli scigalodi acquate che si facciano avanti. Poi i crapuni di la urca, ecco un'ultima cosa, visto che è stata citata la barca Quatras, la barca Quatras sono poi i battelli della regata di Pescarenico, grosso modo? Sì, diciamo che quelli della regata di Pescarenico sono una rivisitazione in vetroresina di quello che era per la barca originale. La barca solida, pesante, che resisteva alle furie delle correnti dell'Adda per pescare nell'Adda di Pescarenico. Un nostro sostenitore ha ancora una barca di queste che ha più di 70 anni, si figuri, una barca in legno che ha più di 70 anni e ancora oggi usa, se non quotidianamente, tempo permettendo, per fare il giro. Bene, auguri allora alle barche Lucia. Grazie a tutti, salve.